Controlli in quasi tutta la Sicilia da parte dei carabinieri del NAS per prevenire e contrastare la diffusione di alimenti contaminati dal batterio della listeria, la cui diffusione ha recentemente causato diversi casi di intossicazione. L'attività degli investigatori ha riguardato anche il territorio della provincia nissena. In un salumificio di Caltanissetta, del quale è stata disposta la sospensione dell'attività oltre alle multe da diverse migliaia di euro per il titolare, i militari hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie, tanto da richiedere l'intervento del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP. I carabinieri, quando hanno controllato lo stabilimento, hanno trovato macchie di sporco, residui alimentari, tracce di sangue rappreso, residui untuosi, polvere e perfino larve di insetti in quasi tutta la superficie calpestabile della struttura. Nelle celle frigorifere utilizzate per contenere gli inzaccati pronti per la commercializzazione, oltre a rilevare le medesime carenze igienico-sanitarie, sono stati trovati più di 500 kg di salumi di ogni tipo, di cui gran parte con data di scadenza superata e altri erano privi di tracciabilità. La merce è stata quindi sequestrata e sono stati prelevati dei campioni per verificare l'eventuale presenza del batterio della listeria. I carabinieri del NAS hanno anche sequestrato 75 kg di carne e bovina a seguito di un altro controllo in un'azienda impegnata nel settore della lavorazione delle carni e di preparazioni gastronomiche. La carne di bovino sequestrata aveva una data di scadenza superata e nonostante ciò, secondo quanto accertato dagli investigatori, era già confezionata e pronta per essere venduta. In totale sono state 34 le attività controllate dai militari del NAS di Ragusa in diverse attività, quali magellerie, salumifiche di industrie e conserviere di diverse province.